Buongiorno a tutti, abbiamo qui con noi il grande dottor Manhattan alias Alessandro Apreda che ci parlerà della generazione Commodore. A lei la parola. Grazie, grazie a tutti per essere venuti. Innanzitutto il nome di questo incontro è Commodore 64 una generazione in attesa perché chi ha avuto un Commodore 64 sa quanto fosse importante e obbligatorio più che altro per chiunque avesse un non computer di questo tipo all'epoca aspettare un sacco di tempo. Con quali esiti? Lo vedremo in questo incontro dal tono ovviamente molto ironico. Allora questo è il biscottone come veniva chiamato all'epoca il Commodore 64 o almeno i primi due modelli perché erano marroncini come colori e questa è una macchina da gioco moderna, una PlayStation 4. Che differenza c'è sostanzialmente, al di là delle prestazioni ovviamente, tra una macchina che aveva 64k di memoria e aveva soltanto 16 colori e una macchina adesso che permette di giocare in full HD? Sostanzialmente una è il fatto che la prima venisse spacciata come un computer a tutti gli effetti perché era un computer a tutti gli effetti anche se buona parte dei ragazzi che lo acquistavano volevano semplicemente giocarci. Perché mentre una console da gioco si sa che cosa serve oggi, nessun ragazzino può farsi comprare una console da gioco da un genitore dicendo che gli serve per studiare, con un computer negli anni 80 ancora funzionava questo trucco. Tu dicevi al genitore che avevi bisogno di questa macchina qui perché gli serviva per studiare, per imparare le cose. Come vedremo tra un attimo era vero, c'è tanta gente che ne ha fatto un lavoro o poi di quello che ha imparato picchiando sui tasti del Commodore 64 ma per tanti altri no, ovviamente il Commodore era un mezzo per giocare ai giochi che non erano belli come quelli dei sale giochi ma comunque erano dei giochi che avevano a casa. Questi sono i 16 colori che vediamo qui accanto e se si guarda, questa è la scatola del Commodore 64 dell'epoca, più o meno all'incirca dell'85 e se vedete il retro della scatola, questo è quello che io a casa ho fotografato per portarlo qui, vedete alcuni esempi che venivano mostrati, c'è una famiglia intera che sta ammirando delle riproduzioni geometriche su un Mivarino come televisore, c'è una donna con una tazza di tè che sta affrontando i dilemmi dell'economia domestica con dei grafici e c'è un signore che sta studiando i terremoti con un oscilloscopio e c'è Marco Columbro che sta intrattenendo una signora guardando una dieta, penso sia un dietologo che sta parlando di una signora che chiaramente non ne ha bisogno. Perché ti dava l'idea al Commodore 64, siccome era un computer, tu potevi programmare in basic, ti dava l'idea che davvero potevi fare tutte quelle cose fighe che vedevi nei telefilm tipo i ragazzi del computer, che vedevi in wargames, davvero avevi la convinzione di poter far scoppiare una guerra con la Russia semplicemente cercando di scaricare un gioco. Ho portato questo libricino sugli anni 80 che ho scritto qualche anno fa perché all'interno ho trascritto quello che c'era scritto sul manuale del Commodore 64 quindi appena compravi il computer trovavi questa scritta che con grande modestia ti diceva siete ora l'orgoglioso proprietario del Commodore 64 per cui vi facciamo le nostre più vive congratulazioni per aver acquistato uno dei migliori computer del mondo perché la Commodore era nota per la sua modestia. La Commodore è nota come la società del computer amico ed essere amici significa fornire manuali di istruzioni facili da leggere, da comprendere e da usare. Non era vero perché era complicatissimo il manuale del Commodore 64 però detto così faceva figo. Quindi uno si ritrovava con questo computer che cosa ci facevi con questo computer? Dovevi affrontare questo mostro qui il dataset, cioè il lettore di cassette. Ora come vedremo esistevano due tipologie di possessori del Commodore 64 quelli sfigati come me che avevano a che fare con i registratori a cassettine e gli eletti che avevano invece un lettore di dischi da 5 pollici e un quarto che era una categoria molto più fortunata per tutta una serie di ragioni. Il dataset era una macchina infernale perché i giochi su cassetta chi tra voi ha avuto la sfortuna di avere a che fare con questi mostri sa che impiegavano una quantità di minuti pazzesca. Tu stavi lì ad aspettare che un gioco si caricasse anche per 10-15 minuti. E' la cosa agghiacciante a ripensarci oggi che tu caricavi per 15 minuti un gioco che magari era brutto provevi a giocare, morivi perché si faceva tutto con un joystick con un unico pulsante, ricordiamolo e ti chiedeva di ricaricare da capo e ti dovevi sorbire altri 15 minuti di questa roba. C'erano, le vedremo tra un attimo, molte cassette che avevano più giochi all'interno e per poter passare da un gioco all'altro dovevi leggere questi numerini che qui vediamo in rosso che erano i numeri dei giri. Quindi sulla cassetta c'era scritto che da 0 a 100 c'era il gioco X e da 100 c'era il gioco Y. Qual è il problema? Che queste macchine infernali tendevano a perdere il numero dei giri a perdere i giri quindi non ti trovavi mai stavi lì a fare esperimenti giro dopo giro e questo se avevi un registratore ufficiale della Commodore se ne avevi uno compatibile della Lexmark se qualcuno era così sfigato da averne uno che non fosse Commodore era ancora peggio la situazione. Però lo si faceva perché era bello l'idea di poter giocare a casa con quelli che erano i giochi che vedevi in sala giochi come vedremo tra un attimo ovviamente non era così neanche in questo caso però questa è una selezione di alcuni giochi dell'epoca e alcuni erano dei giochi originali erano forse le espressioni migliori qui abbiamo The Last Ninja 2 che era un gioco bellissimo le altre sono in realtà di conversioni da giochi da sala ma sul Commodore 64 c'erano tantissimi giochi belli io quando ripenso alle ore passate a giocare con Bruce Lee oppure dimmi un gioco che ti è piaciuto per Commodore non è preparato il ragazzo però c'erano tanti bellissimi i giochi invece che erano conversioni da sala giochi tranne alcuni casi fortunati ovviamente erano tutto un altro paio di maniche perché in sala giochi aveva a che fare con dei giochi che erano visivamente molto più complessi tecnicamente molto più complessi quando li convertivi su una macchina che aveva 64k di memoria e soltanto 16 colori diventava tutto abbastanza difficile questo qua per esempio è un gioco che io ricordo con particolare rancore perché spesi 20.000 lire per comprare un gioco che in sala giochi mi piaceva tantissimo per una qualche ragione perché rivederlo ora è orrendo è un gioco della Siga che si chiama Dynamite Ducks in cui c'erano questi paperotti che davano dei cazzotti giganti a dei cani e ad altri animali è un gioco che a Edoardo Stoppa sarebbe piaciuto tantissimo perché dovevi picchiare degli animali in giro per la città però come vedete era un gioco da sala giochi molto colorato trasformato nella grafica del Commodore 64 diventava questa roba qua come vedete c'è una leggera differenza in termini di prestazioni e i colori andavano tutti dal marroncino al verde ed era così un po' su tutta la linea perché ovviamente era un'impresa improba ricordo addirittura conversioni di giochi come Street Fighter 2 che erano davvero fantascienza cioè portare Street Fighter 2 su un Commodore 64 era un'impresa ai confini dell'impossibile questo d'altro canto è Bruce Lee che è il gioco di cui parlavo prima che invece era bellissimo perché prodotti nati espressamente per il Commodore 64 riuscivano ovviamente ad esprimere tutto c'erano delle avventure fantastiche c'era una quantità di giochi davvero enorme e molto belli una delle cose che mi colpiva molto ai tempi era l'audio del Commodore 64 il famoso Seed aveva queste tre voci audio e molti artisti dell'epoca riuscirono a fare delle cose incredibili alcuni di questi giochi da sala giochi erano brutti di per sé come giochi una volta portati su Commodore 64 ma avevano delle musiche pazzesche cioè la colonna sonora di Golden Axe se andate a cercarvela su YouTube versione Commodore 64 è una roba incredibile vorrei fare una piccola parentesi a questo punto sul periodo perché col passare degli anni è difficile si ricordano tante cose si ricorda la propria esperienza personale però è difficile pensare all'impatto che aveva una macchina del genere all'epoca io comprai il Commodore 64 nell'85 io comprai in realtà non è vero ho dovuto supplicare i miei per dei mesi per farmene comprare uno e la macchina nell'85 costava la bellezza di 900.000 lire che nel mio 85 erano molto più di 450 euro di oggi però c'era la scusa mamma mi serve per lavorare mi serve per imparare a scuola poi sarà il mio lavoro in un qualche verso poi è stato anche così però per vie molto traverse e non si trovava ricordo chiaramente che nel Natale dell'85 era impossibile trovare in città un Commodore 64 perché il rivenditore ufficiale li aveva finiti tutti la persona che vendeva i Commodore 64 nella mia piccola città a Cosenza a metà anni 80 ora ha un resort ai Caraibi e non è una battuta quindi ha costruito un resort sui Commodore 64 venduti a metà doveva avere delle raccomandazioni cardinalizie come fantozzi per trovarne uno tanto era ambita questa macchina che costava ripeto tanti soldi e questo invece è il 1541 il lettore di floppy disk chi aveva un lettore di floppy disk saltava tutta la fase delle attese interminabili si guadeva direttamente i giochi lo riconoscevi in genere a scuola perché questo lettore di dischi da 5,4 costava più del computer cioè costava più il lettore di floppy che era una periferica della macchina e riconoscevi i fortunati possessori di uno di questi lettori perché a scuola camminavano due metri dal livello del suolo te ne accorgevi subito perché erano figli di fortunati possessori di floppy disk questo è Zap Zap per chi c'era i tempi era la rivista di videogiochi poi la stessa casa editrice la Xenia Prototype is Machine che è diventata ovviamente molto famosa però molto più famosa però ai tempi del Commodore 64 degli 8-bit Zap fu una delle prime riviste di videogiochi in Italia dopo la famosa videogiochi ed altre era la versione italiana di una rivista inglese che si chiamava Zap64 aveva queste copertine stupende e per l'epoca una delle cose di maggiore impatto per noi ragazzini della seconda metà degli anni 80 era avere una rivista in cui ci fossero le pubblicità di videogiochi oggi sembrava una cosa banale ma comprare una rivista in cui oltre alle recensioni fossero presenti le pubblicità di videogiochi in uscita era molto figo ovviamente come tante riviste di videogiochi lo dice poi uno che per lavoro si è occupato di videogiochi per quasi 20 anni c'era questa cosa che leggevi delle recensioni e crevi ovviamente ogni singola parola di quello che leggevi e non dimenticherò mai il giorno in cui ho letto la recensione di Golden Axe che è sempre stato il mio gioco preferito come vedete la terza copertina quella più a destra la recensione recitava fedelmente e il coin-op cioè il cabinato da sala è uguale al coin-op lo giuro ho preso i miei soldi sono andato a comprarmi questo gioco a cui mancavano i due livelli finali in cui si poteva giocare con un solo personaggio era lentissimo un nemico alla volta insomma era una merda però mi sono fidato e niente questo è un altro capitolo molto interessante perché all'epoca non esistevano leggi sulla pirateria o comunque erano molto diversa proprio la concezione il concetto di pirateria era molto diverso da oggi e quindi le edicole italiane erano piene di queste rivistine in realtà di opuscoli con delle cassette allegate dai titoli fantasiosi tipo tutto 64 game 2000 eccetera ed erano delle compilation di giochi che in realtà erano giochi commerciali che venivano proposti in queste cassette semplicemente cambiando il titolo con la cosa più banale che veniva in mente al creatore e quindi Batman diventava incappucciato Microprossocer diventava calcio e così via qui abbiamo alcuni titoli esemplari come Mister Forza Jump Jump Jolly Affronto Affronto doveva essere un bel gioco secondo me Paola e Luisa vai a sapere che gioco fosse ma non è facile Mosse Vincenti anche Disasteroid e queste cassettine erano particolari perché da un lato c'era spesso i giochi per Commodore 64 e Commodore 128 e dall'altro magari c'erano i giochi per un'altra piattaforma che poteva essere il Plus 4 il Commodore 16 o lo Spectrum o l'MSX andavano tantissimo e ancora oggi ci sono intere soffitte che sono piene strato su strato di questi residuati bellici la cosa interessante che poi soltanto ovviamente non c'era internet quindi quando ti spacciavano un gioco per Paola e Luisa tu eri convinto magari che si chiamasse davvero Paola e Luisa e quindi per anni hai pensato che figo che era quel gioco per Commodore 64 Paola e Luisa parlavi con la gente e la gente ti prendeva ovviamente per cretino perché nessuno conosceva Paola e Luisa e soltanto poi con il tempo con le riviste con l'avvento di Inter si è scoperto l'arcano dietro queste cassettine qui questo è il Commodore Commodore Computer Club è una delle tante riviste prima dicevamo di come poi effettivamente per molte persone il Commodore si è diventato davvero l'origine del lavoro che hanno fatto adesso perché c'era poi chi davvero si sobbarcava lo sommalettamento sul Commodore 64 e sul suo Basic per imparare a programmare il Basic come lascia intuire il nome non era il massimo però davvero ha dato le basi a tanti e c'erano queste riviste Commodore Computer Club era una delle più famose è nata in epoca Commodore 64 poi si è portata avanti per tutta l'epoca Amiga ce n'erano tante in cui erano presenti questi listatoni della morte per chi non si ricorda listatoni della morte erano questa roba qui qui ne vediamo uno corto in realtà soltanto di una trentina di righe in genere ce n'erano anche da 100 150 200 righe e il divertimento stava nel dover ricopiare parola per parola battuta per battuta tutto il contenuto dei listatoni che cosa ottenevi come premio una pallina che rimbalzava qualche altra cagata simile che era la fine però il fatto di averla programmata tu era figo no? l'ho fatto io l'ho fatto io se non che bastava un minimo errore ovviamente per non far funzionare un cavolo e quindi tu stavi lì tre ore a ricopiare questa roba lunghissima poi non funziona dovevi stare un'altra mezz'ora a rileggertela tutta poi magari c'era stato semplicemente un errore di stampa quindi non era nemmeno colpa tua il concetto di base che dovevi soffrire però ti dava davvero quest'idea di essere parte del nuovo che avanzava perché avere un Commodore 64 negli anni 80 era lo stesso ovviamente con uno ZX Spectrum con gli MSX era davvero adesso un computer ce l'hanno tutti all'epoca in molte famiglie non esistevano i computer quindi smanettare con un computer davvero ti dava l'idea di essere un giovane hacker anche se stavi facendo rimbalzare una pallina copiando per due ore un testo trovato su una rivista era complesso anche perché molte di queste riviste non avevano un approccio semplice erano rivolte a un pubblico comunque che un minimo di conoscenze le aveva quindi da bambini era complicato imparare effettivamente qualcosa che non fosse 10 print scemo 20 8 10 che era una cosa che facevano tutti appena mettevano mano a un Commodore 64 però era interessante ed era una cosa su cui siamo passati tutti tu hai qualche ricordo legato ai listoni che trovavi in giro hai provato mai io veramente usavo il Commodore 16 quindi però anche io mi divertivo con i listoni della morte infiniti come chiami te prendevo il Commodore Computer Club quindi ho proprio quel numero là che hai fatto vedere questo si si non so se hai visto ecco il virus del Commodore 64 mi ricordo questo numero che c'eravamo tutti allarmati che pensavamo i virus sono arrivati anche negli home computer invece era tutta una roba che non c'entrava niente ovviamente non so se ti ricordi ma l'attacco hacker che c'è stato ieri visto che molti enti governativi usano computer molto vecchi probabilmente è lo stesso del virus del 64 nel frattempo 30 anni dopo ha colpito questo è un numero che secondo me di Commodore Computer Club è il più significativo perché c'è in copertina la signorina la signorina Colò è una versione chismilicia scusate la signorina Cristina D'Avena è in versione chismilicia c'era stata una partnership tra la Commodore Italia che la Commodore è un capitolo ovviamente a sé perché è stato ci sono diversi libri che raccontano l'incredibile ascesa di questa azienda e il tracollo incredibile che ha avuto nell'arco di pochissimo tempo una delle tante partnership che lanciò la Commodore che sponsorizzava squadre di calcio ricordiamo il Bayern Monaco e la Commodore come sponsor fece una partnership con Mediaset per delle puntate di chismilicia quindi in chismilicia scusate chismilicia era il cartone animato la versione live action che era con i vari titoli delle varie stagioni comunque nella versione a telefilm di licia tra le fettine panate e la pasta con i capperi c'era una puntata in cui scoprivano un Commodore 64 quindi c'era il piccolo bambino dell'ottocento Andrea questo riccio qui senza le gambe che aveva in casa un Commodore 64 Commodore Computer Club è stato qui vediamo tra l'altro non so se riuscite a vederlo ma c'è anche il videogioco di Dylan Dog che è l'88 è uno dei primi giochi sviluppati sui fumetti bonelli o comunque sui fumetti italiani perché inizierano a uscirne diversi ne parlavamo poco prima c'è stato tutto il periodo subito dopo della Simul Mondo che faceva i giochi per amica di Dylan Dog di Nathan Never eccetera questo è stato uno dei primi io lo ricordo come un periodo felice perché davvero questa era una rivista come dicevo prima molto complessa leggevi e gran parte di quello che leggevo non ero in grado di capirlo anche perché si parlava di linguaggio macchina di tante cose che per me avevano un sapore fantascientifico ma ovviamente non ne capivo nulla però ti dava davvero l'idea di avere le chiavi in mano per qualcosa che era il futuro in divenire conosco tante persone che davvero partite da un Commodore 64 sono finita a fare un lavoro molto meglio pagato e molto più interessante del mio quindi effettivamente la scusa di farsi comprare la macchina da gioco ogni tanto funzionava il Commodore 64 ci sono stati vari tentativi dopo la fine del Commodore il Commodore in realtà il 64 ha avuto una sua vita molto lunga e felice è stato ammazzato semplicemente dalla concorrenza interna di una macchina più potente la Micah 500 del 16 bit la Commodore ha provato a rilanciare più volte il marchio ha provato a fare una versione console nel 90 nel 91 del Commodore 64 perché in Italia nel frattempo c'era stato il boom delle console era arrivato il Nintendo 8 bit è arrivato il Siga Master System e poi il Siga Mega Drive quindi il computer il fatto di dover digitare tanti comandi o usare le cassettine per giocare ovviamente al di là delle prestazioni grafiche non reggeva più però lo portiamo sempre come ricordo perché poi alla fine è un simbolo degli anni 80 tu cosa ne pensi? Sì è simbolo specialmente del nostro mondo nerd il Commodore 64 ha dietro appunto tutti questi ricordi che hai detto te mi ricordo anche io il caricamento infinito dei giochi con le cassette pur io avendo il Commodore 64 comunque la stessa cosa insomma che tante volte aspettavi un quarto d'ora e dopo non succedeva niente oppure ti dava l'errore e niente e perdevi un quarto d'ora della tua vita in vano diciamo io qui avevo scritto proprio una paginetta sul caricamento dei programmi se volete ve la leggo volete? se dicevano no poi non leggevamo lo stesso e vabbè alla voce caricamento dei programmi il manuale del Commodore 64 di cui sopra chiedeva di A riavvolgere il nastro B battere a video il comando load ovviamente questo è esattamente come era scritto sul manuale C premere il tasto play sul registratore all'apparire della scritta press play on tape la famosa scritta aspettare che quest'ultimo trovi qualcosa che era già una frase abbastanza inquietante perché tu sul manuale ti dicevano aspetta che trova qualcosa quindi non era scontato che lo facesse premi il tasto Commodore per caricare il programma trovato F l'ho aggiunta io prega che riesca a caricarlo tempo di attesa perché dal passo F si arrivasse a poter smanettare con il joystick anche 15-20 minuti esistevano tutta una serie di scorciatoie tramandate esclusivamente per tradizione orale nell'intervallo a scuola come la combinazione di tasti shift più run stop che ricordate tutti così come esistevano fortunatamente i fast loader programmi come il celebre turbo tape che servivano proprio a velocizzare i tempi di caricamento in alcuni casi piazzando pure lì un mini gioco se vi ricordate c'erano alcuni giochi che durante il caricamento ti facevano giocare a space invaders che era un modo per non farti bestemmiare in quei 15 minuti di tempo per aiutarti ad ammazzare il tempo mentre i lati dello schermo si riempivano di righe colorate sempre meglio che mangiarsi le unghie in effetti stare lì poi finalmente il caricamento aveva termine e potevi iniziare a giocare evviva solo in quei molti dannatissimi giochi ogni livello andava caricato a parte se morivi dovevi ricaricare tutto da capo evviva perché c'era questa cosa come dicevamo prima che quando poi crescendo ho visto dei ragazzini che si incazzavano per giocare a Tekken sulla prima Playstation perché dovevano aspettare 15 secondi per il caricamento del gioco ed avere un gioco che era uguale alla sala giochi e dovevi aspettare 15 secondi mi riempia da ridere o da prenderli a schiaffi perché non si rendevano conto delle sofferenze che noi giocatori della prima ora avevamo dovuto subire per giocare a delle versioni ovviamente infime dei giochi da sala sulle cassettine stando lì ad aspettare 20 minuti penso che uno dei momenti più sconfortanti nella mia vita da giovane videogiocatore sia stato quando mi hanno regalato la versione originale di Dragon Slayer perché nella mia mente di bambino degli anni 80 ero convinto che un gioco in laser game come Dragon Slayer potesse arrivare davvero su un Commodore 64 ed era questo gioco dei caricamenti infiniti in cui vedevi alla fine una roba nera con delle mazzarelle luminose che dovevano rappresentare più o meno il cavaliere Dirk il coraggioso ed era ovviamente tutta un'altra roba però lo Street Fighter per Commodore 64 siccome ero già passato alla Miga e alle console non ho mai giocato forse fortunatamente non so se qualcuno di voi l'ha mai visto ma sono sempre rimasto con la curiosità di sapere quanto brutto potesse essere Street Fighter 2 giocato su un Commodore 64 o sceno ebbè sì immagino Ghost and Goblins invece era una buona conversione cioè ricordo che comunque aveva una giocabilità che era molto simile anche perché si prestava ad essere giocato con un il problema di molti giochi era proprio la conversione perché il cabinato in genere aveva almeno due tasti giocarli con un unico tasto comportava che il tasto del salto e quello dello sparo spesso fossero la stessa roba e quindi già diventava abbastanza complicato c'è poi tutto un capitolo da aprire sui Joyce io ho fatto diversi post in cui si raccoglievano le pubblicità anni fa dei joystick del Commodore 64 perché al di là dell'aspetto inquietante molto fallico che avevano i joystick dell'epoca non se ne trovava mai uno che fosse veramente buono perché se le compravi uno con i micro switch che avevano questo effetto click su ogni movimento tendevano a durare di più anche perché avevano delle foglioline di rame che poi i modder della prima era sostituivano con delle monettine da 50 lire quindi non si potevano distruggere il problema è che erano dei carri armati cioè da muovere ogni volta erano pesantissimi e in quei giochi tipo ricordo quello di Danko in cui dovevi smanettare velocissimamente per fare un minigioco eccetera tendevi a distruggere o la scrivania o il pavimento al di so cioè il movimento la vibrazione era talmente forte che qualcosa veniva giù oppure c'erano tutta una serie di combinazioni di modelli che si impugnavano in una mano con lo stick piccolino da mettere sopra però ti portavano dei crampi erano scomodissimi cioè il joystick di per sé al di là poi delle versioni che sono venute per i giochi simulatori di volo ad esempio erano dei figli del demonio anche loro perché non erano pratici l'affermazione dei pad poi delle console è stata così rapida proprio perché erano molto più pratici al di là del numero di tasti maggiori che permetteva quindi di poter fare tante cose e di emulare meglio i tipi di giochi arcade di calcio eccetera c'era anche la cosa che erano molto più ergonomici da utilizzare è anche vero che con alcuni giochi classici del Commodore io non riesco a pensarli senza un joystick l'effetto che davi a Micro Pro Soccer dopo aver calciato il pallone che tendevi a curvare fino a staccare le ventose dal tavolo per dare l'effetto after touch e senti quindi davi il colpo e poi si staccava il joystick che si cappottava su un fianco però anche quello era bello ci sono alcune cose che sono un po' perse nel tempo perché sono relative alle origini della macchina quando ancora non era molto diffusa per esempio alcuni di voi ricorderanno che all'inizio dell'era Commodore 64 c'erano le cartucce erano molto diffusi i giochi su cartuccia che poi sono venuti meno perché costavano molto e quindi non hanno sviluppati però il mitico calcio della Commodore quello con gli atleti grandi che cambiavano la maglietta uscì prima su cartuccia e poi da lì il tentativo anni dopo della Commodore fuori tempo massimo quando tutti i buoi erano scappati dalla stalla e la stalla aveva preso fuoco di trasformare il Commodore in una console per fare concorrenza alle console giapponesi decisamente fuori tempo massimo e altre periferiche curiose le ricordi? tipo c'era il plotter addirittura per il Commodore 64 non so se c'era il plotter c'erano le stampanti ad aghi eppure quelle costavano un sacco di soldi più del computer quindi erano viste come un oggetto un po' misterioso ricordo che c'era il grande fascino quando passavi davanti a un negozio che vendeva questi prodotti e poi non sempre erano negozi di computer come li intendiamo adesso spesso erano semplicemente negozi di elettronica che avevano un angolo dedicato ai computer e vedere queste stampanti che erano delle macchine enormi che producevano suoni da trattori del futuro che costavano molto di più del computer su cui dovevano girare o per il quale dovevano girare ovviamente faceva molto effetto ricordo le trackball ricordo le trackball e quella serie di giochi che avevano una specie di potenziometro da girare ereditati dal Vic 20 che avevano i giochi tipo Arkanoid eccetera periferiche strane ce ne erano tante anche poi se poi ovviamente per Commodore 64 per Amiga ce ne sarebbero state molte di più c'erano le prime tastierine musicali da collegare al Commodore 64 per emulare la musica proprio perché il Seed ti permetteva di fare molte cose c'erano dei software che ti permettevano di leggere le cassettine audio e quindi tu inserivi una cassetta audio e te la leggeva attraverso il Seed quindi ne veniva fuori automaticamente una versione Easy Douse di qualsiasi brano ci mettevi Cocciante e ti usciva fuori la versione House di Cocciante quindi il lavoro per i DJ dell'epoca era abbastanza semplice si compravano un Commodore 64 sappiamo che molti gruppi effettivamente dell'epoca non sono molti DJ ma anche gruppi musicali come i Queen usavano una Taria ST perché poi con il diffondersi di piattaforma 16 bit erano molto utilizzate davvero però io immaginavo nella mia mente davvero che al tempi del Commodore 64 e l'ultima fase seconda metà anni 80 ci fossero i DJ che semplicemente trasformavano le canzoni attraverso il Seed periferiche strane c'erano tante una delle mie passioni più perverse era leggere il Postal Market ma non in quel senso non sto parlando delle pagine dell'intimo sto parlando delle pagine dei computer perché c'erano tutte quelle robe strane tipo la scrivania fatta apposta per i dischetti o per le cassettine dei residuati della mobilia tedesca anni 70 terrificanti che vengono riconvertiti per i giovani nerd che li utilizzavano in casa proprio le coperture in plastica per la tastiera del Commodore 64 che non servivano a niente perché in casa tutti ci tenevano sopra un cencio di pezza nella migliore delle ipotesi però era figo l'idea di coprire con una plasticona quando andavi in vacanza al mare e ci mettevi la plastica sopra la tastiera c'erano effettivamente tante c'erano i monitor costavano anche quelli tantissimo anche se il Commodore 64 senza un televisore della Mifar da 14 pollici anche quello è difficile da immaginare però sì c'era questa cosa comunque ricordiamo che in un periodo in cui i pc erano molto indietro i Commodore comunque ti facevano vedere della roba a colori sullo schermo che già era tanta roba per noi al di là del rapporto improbabile come dicevamo prima con i giochi da sala che ovviamente erano tutt'altro hardware però comunque era una roba incredibile pioneristica quanto vuoi ma davvero incredibile e visto che hai una rubrica famosissima delle pubblicità forurvianti su Topolino ti ricordi qualche pubblicità inerente al Commodore 64 o comunque Commodore in particolare? ne ricordo alcune del Vic 20 che sono arrivati un po' prima tipo l'82 l'83 con la modestia della Commodore ti vendevano il futuro compra il futuro per un milione di euro che era una cosa abbastanza interessante del Commodore non ne ricordo tantissimo è anche vero che il Commodore non fu pubblicizzato direttamente tanto cioè il 64 non fu pubblicizzato tantissimo dalla Commodore sulle riviste per bambini eccetera perché in quel target lì comunque andava talmente forte che non avevano gran bisogno di pubblicizzarlo ci fu questa cosa che siccome era un prodotto simbolo degli anni veniva infilato in ogni concorso ricorderete che c'erano i concorsi culturali la gente portava a casa il Commodore 64 era da qualsiasi cosa ho scritto un tema e ho vinto un Commodore 64 ho comprato il Dixan e ho vinto un Commodore 64 uno mi ha fermato per strada e mi ha messo in mano un Commodore 64 cioè dove andavi andavi perché costava comunque 800 900 800 a seconda degli anni anche 700 mila lire comunque era una bella macchina c'era questa cosa che siccome era un computer veniva vista anche come una cosa istruttiva e quindi anche in contesti un po' più culturali un po' più diciamo ingessati c'era questa cosa di regalarti il computer e tantissimi concorsi lo mettevano in palio ricordo che c'era questa abbinata bellissima delle crocchette arena che erano passate da Capitano Arlock a regalarti i computer della Commodore quindi avevano mantenuto questo aspetto super cool prima il pirata dello spazio poi i computer per dire però pubblicità specifiche della Commodore ne ricordo poco più che altro anche perché poi il diffondersi delle prime riviste ha fatto sì che ci fosse un canale diretto per pubblicizzare le proprie cose una si ricordo le cose del postal marketing ricordo che sulle riviste tipo Commodore Computer Club c'erano i borsini dei prezzi che erano sempre i singoli rivenditori che vendevano i computer poi ti dicevano quanto costasse il Commodore 64 quanto costava l'espansione per la mica 500 la famosa espansione Omega di memoria e così via a leggere a leggere certi prezzi oggi ti viene proprio la mica 500 costava mi pare 2 milioni no 2 milioni no il 2 mila sicuramente costava tantissimo 2 milioni e mezzo qualcosa però appena usciti sì la mica 500 mi pare costasse intorno al milione parliamo dell'87 se non sbaglio l'arrivo in Italia della mica 500 io l'ho comprata un po' dopo nell'89 l'ho pagata sempre 800 mila a casa mia sotto gli 800 mila si potevano comprare i computer evidentemente un po' sopra un po' sopra no era la soia anche lì si utilizzò poi per l'Amiga il trucco del survey per studiare però i miei già l'avevano capito un po' perché mi avevano visto per 5 anni perdere tempo con dei giochini quindi diciamo che un po' già l'avevano intuito invece a me hanno preso un pcbm quindi sono andato peggio io dell'Amiga 500 come tipo di computer dico si anche se pure lì c'è stata una fase a fine anni 80 prima anni 90 in cui sui pc già arrivavano bei giochi che hanno giocato tutti perché l'epoca di Prince of Persia ancora prima delle avventure della Lucas l'epoca di Prince of Persia di Battle Chess a cui tutti hanno giocato in quegli anni anche sui monitor a fosfori verdi andavano bene l'avremmo giocato anche su un oscilloscopio quindi andavano bene comunque e niente poi l'epoca dei computer degli on computer è evaporata per tutta una serie di ragioni perché si è affermato lo standard di IBM una cosa molto interessante è che all'epoca fino a tutta l'epoca Amiga c'era questa convinzione che comunque più standard diversi potessero coesistere non si sapeva ovviamente che il mercato sarebbe tutto confluito su un unico standard adesso ne abbiamo due di standard ovviamente perché ci sono le macchine Apple però grosso modo c'era questa convinzione che con un'Amiga effettivamente uno avrebbe potuto continuare a utilizzare l'Amiga OS comunque il tipo di sistema operativo dell'Amiga già l'interfaccia icone eccetera anche negli anni successivi anche all'epoca della Commodore c'erano tanti sistemi diversi c'era una pluralità di offerta che poi ovviamente è venuta meno con gli IBM compatibili sul fronte dei giochi sono state le console ovviamente ad ammazzare gli home computer perché erano molto più semplici da utilizzare perché erano più aggressive erano macchine che erano fatte apposta per quello e quindi riuscivano a fare molto di più basta confrontare le performance di console a 8 bit come il primo NES come il Master System con il Commodore 64 e si vede che non c'era ovviamente paragone tu hai avuto console a 8 bit? all'epoca no adesso si perché una delle grandi passioni poi del nerd cresciuto negli anni 80 è che ovviamente ricomparsi quando hai avuto i primi stipendi comprare tutto quello che non ti potevi permettere prima noi con la presentazione credo siamo arrivati alla fine sì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti